Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, eccoci qui nella post partita Spezia Juventus per commentare finalmente la prima vittoria in campionato dei bianconeri, non certamente una prestazione dignitosa, una prestazione che ci possa regalare chissà quale sorriso, ma almeno la Juventus conquista la sua prima vittoria in campionato. Prima di cominciare ad analizzarla insieme vi invito a scaricare l'applicazione OneFootball di cui vi lascio qui di sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico, un'applicazione leggera, gratuita che da questa sera, se la scaricherete potrete trovare sicuramente tante informazioni in merito a questa prima vittoria della Juventus nella Serie A 2021-22, disponibile sia sul Play Store ora, sia sull'Apple Store, a seconda dei vostri dispositivi e oltretutto applicazione che vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore per rimanere aggiornata su tutte le informazioni che possono riguardarla. È stata una partita brutta, diciamolo subito, piedi ben piantati a terra, la Juventus non ha fatto nulla se non quello di fare il suo, cioè di vincere contro una neopromossa, contro una squadra che deve lottare per la salvezza, ma d'altra parte, lo aveva detto Allegri, era una sfida a salvezza, quindi la Juventus anche per questo non ha di che essere troppo allegra, perché è la prestazione in sé, giudicata per la qualità del gioco che si è visto oggi sul terreno del picco, non può che aumentare i dubbi sulla qualità di questa rosa. Una Juventus che nel primo tempo ha palesato un fraseggio, un palleggio lento, prevedibile, oserei dire soporifero. Juventus che trova la prima rete di Can in campionato va in vantaggio, ma alla prima occasione, come peraltro purtroppo da tante giornate a questa parte succede, subisce il gol del pareggio. Per la Juventus è la diciannovesima partita consecutiva con gol subito in Serie A, un record davvero poco invidiabile per una squadra che ambisce ai più alti traguardi. Ma in questo momento è inutile pensare agli alti traguardi, soprattutto guardando quello che stanno facendo le competitor, guardando la qualità del gioco espresso dalla formazione di Massimiliano Allegri. Un gioco, ripeto, lento, prevedibile, dove si ha sempre la sensazione che se vieni attaccato, se vieni messo alle corde, subisci gol, mentre di contro, perlomeno per quella che è la mia sensazione, noto una grande difficoltà nel trovare la via della rete, nell'arrivare alla segnatura. Oggi la Juventus di positivo deve inserire, certamente tra le cose da sottolineare, i tre ragazzi che sono andati in gol. Ero stato premonitore, diciamo così, oggi nel video di presentazione alla sfida di questa sera, con Tocca a voi, il titolo del video, in copertina, Ken, De Litt e Chiesa, i tre marcatori della vittoria contro lo Spezia. Di positivo c'è Chiesny, tornato su ottimi livelli, direi, perché se nel gol di Antiste, preso sul proprio palo, ma l'errore, diciamo, principale di Bonucci, replica con una parata miracolosa al minuto 84, che salva il risultato, che salva i tre punti per la Juventus. E così come dopo Udine e Napoli ero stato piuttosto duro e impietoso nei giudizi contro Vojc e Chiesny, questa sera per la seconda volta, dopo domenica, quando aveva salvato il pareggio su Calulu, devo fare i complimenti e annoverare la prestazione positiva di Vojc e Chiesny, che regala i tre punti ai suoi. Quindi dopo Udine e Napoli li aveva tolti, dopo Milan e Spezia restituisce esattamente ciò che era andato in fumo nelle due partite incriminate. Pensate a dove poteva essere la Juventus se quegli errori non fossero stati commessi. Però bisogna essere anche realisti, ammettere che la Juventus merita di essere dov'è, perché, la ripeto, la qualità del gioco è scadente, la Juventus deve soprattutto guarire mentalmente. È una Juve che non fa paura, è una Juve che ha paura di se stessa. Ripeto, la sensazione è più quella che se viene attaccato subisce i gol, che non quella di riuscire a segnare. Nonostante la mole di fraseggio e di palleggio che i giocatori sviluppano in campo. Ma c'è poca verticalizzazione, soprattutto nel primo tempo quando mancava Locatelli. Male, direi malissimo Bentancur, e ormai è un caso perché sono rare le prestazioni che annoveriamo tra quelle positive dell'Uruguagio. Evidentemente, oltre ad un possibile problema di testa, c'è anche un problema della qualità di un giocatore che se vuole ambire a giocare titolare in una Juventus che mira ai più alti traguardi, deve crescere come non lo ha fatto in questi primi suoi anni bianconeri. Mi spiace dirlo, ma è un dato di fatto. A questo punto va rilevato Bentancur, è un giocatore che probabilmente per rendere al meglio deve avere di fianco davvero dei campioni. Male, malissimo anche De Sciglio, sostituito peraltro insieme a Bentancur alla fine del primo tempo. Ma poi la Juventus, dopo appena tre minuti, subisce subito il gol del 2-1, dopo che era stata raggiunta, dopo appena cinque minuti, dal gol del vantaggio, proprio a indicare quello che vi dicevo. Cioè che è una Juve che quando viene attaccata la sensazione è proprio quella di subire, di non riuscire a tenere le folate avversarie e che subisce alle prime difficoltà. Fortunatamente la caparvietà di Federico Chiesa, la rabbia, la forza, hanno fatto sì che in un momento in cui sembrava veramente difficile arrivare al pareggio, perché lo Spezza giocava dietro la linea della palla ed era ben disposto in campo e la Juve, non avendo un uomo che dà profondità, una riete che possa far salire la squadra e che possa giocare di sponda con centrocampisti che siano in grado di inserirsi per trovare la via della rete, è veramente in grande difficoltà. Ma ripeto ci ha pensato Federico Chiesa, grande lavoro il suo, con una grande determinazione, gol che veramente porta tutta la firma di quelle che sono le sue caratteristiche. Caparvietà, rabbia, determinazione, DNA bianconero. E poi il gol di De Ligt che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie a una spizzata di Alexandro, positivo ancora una volta il brasiliano che sembra, incrociamo le dita mentre lo dico, un giocatore veramente ritrovato. E quindi questa sera la Juventus di positivo ha il ritrovato Chiesny che da due partite regala punti invece di regalargli agli avversari, che hanno segnato i tre giocatori che, ripeto, avevo sottolineato nel video di quest'oggi, chiamiamoli giovani, ma che poi tanto giovani non sono perché sono già giocatori di esperienza, Chiesa, De Ligt e lo stesso Moise Ken. Di positivo c'è la prima vittoria in campionato dopo cinque giornate che finalmente consente alla Juve di tirare un sospiro di sollievo. Speriamo che serva ad essersi scrollato quella scimmia di dosso, quella paura di non arrivare al primo successo in campionato, che arriva con due gol realizzati, i primi due peraltro nei secondi tempi e quindi la speranza è che la sfida del picco sia una sorta di svolta, di sterzata nella stagione della Juventus. Lo vedremo presto perché domenica all'ora di pranzo ci sarà subito una riprova contro una Sampdoria in salute che deve giocare con il Napoli, quindi ancora non sappiamo come sarà il risultato, ma sappiamo che Federico Chiesa, uscito anzitempo, dovrà combattere contro un possibile infortunio muscolare. Auspichiamoci di no perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, però rimaniamo sintonizzati per capire quelle che possono essere le condizioni fisiche dell'ex Viola, che è uscito per un possibile ricaduta relativa all'infortunio subito in nazionale. Ragazzi, io vi auguro una buona serata, lasciatemi i vostri commenti, ci vediamo presto, domani non perdetevi il video in uscita relativo alla rubrica Gran Talenti. Buon proseguimento fino alla fine. Forza Juve! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!